Ciao a tutti, sono Massimo Merazzi, faccio il preparatore fisico nella palla a volo. La mia squadra è la Lube Volley Civitanova Marche. Lavorando nella palla a volo mi occupo quasi esclusivamente di allenamento per la forza. Proprio per questo motivo sono stato contattato dagli amici di All Sport Association e parteciperò ai loro clinic dedicati alla preparazione fisica nel calcio. Sarò a Bellinzona e sarò a Roma. A Bellinzona, dove già ci siamo incontrati nella scorsa stagione, parlerò sempre di forza ma un pochino di più nell'ottica prevenzione degli infortuni, riabilitazione funzionale e recupero sportivo post-infortunio. Mentre invece a Roma l'argomento sarà l'allenamento della forza in generale dal punto di vista della preparazione fisica per i giochi sportivi. Vi aspetto! Grazie a tutti!